Edoardo, sarai costretto a guardare questa partita dalla tribuna, ti chiedo quali sono le tue sensazioni dopo la semifinale con la Croazia e prima di questa finale con la Spagna? Le sensazioni sono buone, la squadra è carica, vogliamo prenderci questo bronzo, purtroppo giocheremo in 12. Siamo positivi, comunque è stata una partita con la Croazia che abbiamo sbagliato tanto, abbiamo analizzato ieri sera tutti gli errori che abbiamo fatto e bisogna partire da lì. Siamo una grande squadra, siamo una squadra nuova e abbiamo tutte le opportunità di crescere e questa partita qua deve essere la dimostrazione che siamo un grande gruppo e sono sicuro che sarà una grande partita.